L'Expo 2015 di Milano sarà una grande prova di capacità organizzativa anche per la città di Napoli ed un evento che non punterà solo allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione ma anche al progresso della società soprattutto in relazione al tema scelto, quello dell'alimentazione e dai rapporti fra le culture. Per arrivare all'appuntamento e sviluppare al meglio le potenzialità offerte dalle migliori esperienze dei territori, l'Expo ha deciso di coinvolgere altre città, fra cui Napoli, creando un ponte simbolico che rafforza anche i legami fra gli enti territoriali. Obiettivi, sfide ed opportunità sono state presentate questa mattina al Castel dell'Ovo in un incontro con l'amministrazione comunale di Napoli e gli operatori economici e culturali cui ha preso parte anche il sindaco di Milano e commissario straordinario del governo per Expo 2015, Giuliano Pisapia. È la prima volta che ci incontriamo a Napoli e devo dire la verità che è anche la prima volta che vengo da sindaco a Napoli. Per me è una grande emozione, le mie discendenze napoletane mi sono riconosciute sicuramente dappertutto, ma credo che sia importante rafforzare questa amicizia che già esiste, questa capacità di camminare insieme in un percorso che riguarda sicuramente le nostre due città ma riguarda veramente una svolta nel paese. Io credo che questo sia fondamentale e su questo stiamo lavorando in un'ottica di valorizzazione del compito oggi sempre più difficile dei sindaci e in particolare dei sindaci di Milano e di Napoli. Sono sempre più convinto giorno dopo giorno che Expo 2015 sarà il grande volano di sviluppo non solo e non tanto di Milano ma dell'intero paese e il rapporto tra nord e sud del paese fondamentale tra Milano e Napoli è per me indispensabile. Successivamente la delegazione si è trasferita alla Rotonda Diaz dove è stata allestita la tavola planetaria, l'evento simbolo di integrazione fra alimentazione e culture in una giornata dove la vicinanza fra le due città ha trovato numerosi spunti di riflessione e soprattutto di programmazione. Napoli si presenta con capacità organizzative, con entusiasmo, con voglia, con passione come ha dimostrato negli ultimi mesi quando ci sono stati eventi importanti. Quindi iniziamo a lavorare insieme, per fortuna non c'è l'ansia di doverlo fare domani, ci faremo trovare pronti ed è una bella immagine questa dell'Italia intera da nord a sud unita.